Ciao a tutti, sono Michela del DT di Impronte d'Autore. Come sapete la mia passione sono le strutture e il mini album. In questo primo corso vi aiuterò a realizzare appunto un mini album, un accordion per la precisione, contenuto in questa scatola. La struttura è davvero molto semplice, ma al col tempo è molto sfiziosa. Io spero che vi piaccia, alla prossima! Ciao!